Poi siamo con Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera Premio Monte 5 Stelle. Buongiorno Silvestri. Vengo da lei Silvestri, l'introduzione del peculato per registrazione nel decreto carceri. Voi avete detto che si fa uscire l'abuso d'ufficio dalla porta in una parte dell'opposizione, lo si fa rientrare dalla finestra. Se così fosse, uno potrebbe dire loro, le vostre critiche a questo punto sono state ascoltate. C'è una maggiore rassicurazione rispetto a quelle che hanno le vostre preoccupazioni con la reintroduzione del peculato per registrazione, soprattutto considerando quanto diceva anche la sottosegretaria, cioè che poi di fatto, come sappiamo, la maggior parte di queste denunce per abuso d'ufficio poi si risolvono con nulla di fatto a livello di condanno. Se questo fosse la razza del ragionamento dovremmo togliere istantaneamente il decreto rave che ha portato zero indagati, zero condannati, quindi a questo punto togliamo tutto quello che ha poco margine di indagine. Visto che invece ci sono stati più di 3.000 casi dal 2000, anche perché abuso d'ufficio vuol dire anche raggiramento delle liste d'attesa a livello sanitario. Oggi quel tipo di reato non c'è più, nel senso che noi un cittadino che vede un elemento del genere non ha più gli elementi per poter operare, per poter denunciare. Il punto è questo, se noi adesso, nonostante il caldo, usciamo da qui e andiamo per strada e chiediamo alle persone qual è il problema della giustizia, qualsiasi persona ti dirà che un processo a me dura 7-8 anni, ok? Che cosa fa il Nordio su questo? Aggiunge magistrati? No. Pochissimi, ma per quanto riguarda un ricambio normale non aumenta da questo punto di vista. Quindi quello che questo Paese deve fare è cercare di dotare più personale per fare in modo che i processi possano essere consumati in tempi rapidi. Non deve togliere reati che sono invece importantissimi. L'ANAC ci dice che sono un elemento spia sull'anticorruzione. Quindi da questo punto di vista, io dico questo, stanno atterrando 200 miliardi sui nostri enti locali. Se un reato come quello dell'abuso d'ufficio è utilizzato dall'ANAC, è descritto come un reato fondamentale per fare in modo che ci sia un operato importante. Un reato spia, l'ha appena detto, non è proprio un reato, cioè non è un reato, è un elemento spia. Dall'abuso di ufficio si è arrivato a tante indagini per corruzione. Quindi è questo il punto. Sostanzialmente non bisognava fare in modo, non bisogna depotenziare in nessun modo quelli che sono i presidi anticorruzione, soprattutto in un momento di massima spesa per il Paese. Dobbiamo lavorare per aumentare al massimo le dotazioni del personale e della magistratura per fare in modo che i tempi siano minori, non togliere reati ai colletti bianchi. Questo è il problema. Silvestri, c'è poi anche la questione che molti amministratori anche di centrosinistra hanno sollevato rispetto al fatto che questa specie di reato potesse a volte inficiare con quello che era il loro normale esercizio delle funzioni, la siddetta paura della firma, perché è capitato più volte, l'abbiamo visto anche in casi di cronaca, di denunce che poi sono state fatte magari per nemicizie politiche, magari semplicemente perché il sindaco mi sa antipatico, che però poi bloccavano di fatto tutta quella che poteva essere la loro attività. E su questo come rassicurare anche quelli che sono gli amministratori, anche appunto di area centrosinistra, che invece non vedono troppo negativamente questo provvedimento? Ce ne sono tanti che invece hanno detto esattamente il contrario. Il procuratore De Rao oggi in un'intervista ha detto che nella sua carriera ha visto anche tanti sindaci potersi difendere dalle pressioni della criminalità organizzata proprio dicendo c'è l'abuso d'ufficio, non posso fare certe cose. Questa è l'esperienza di chi ha lavorato sul campo. Ci sono delle cose migliorabili? E potevamo migliorare, non c'era un problema. Il punto è che l'obiettivo non è migliorare un qualcosa, l'obiettivo era toglierlo, perché comunque la direzione è abbastanza chiara da questo punto di vista ed è assolutamente opposta a quella del Movimento 5 Stelle che quando è stato al governo ha fatto l'anticorruzione, ha inserito degli elementi sul Troia, ha cercato di rafforzare al massimo tutti quegli elementi usati della magistratura per impedire che un servizio costi il quadruplo e renda la metà. Perché poi sostanzialmente la corruzione cosa fa? Depriva il cittadino di quello che è la qualità dei servizi, semplicemente. E arricchisce qualcuno che non deve essere arricchito. Quindi potevamo migliorarlo se c'erano dei problemi, si poteva fare un'analisi e un dialogo più complesso, il punto è che non c'era nessuna intenzione di migliorare, c'era semplicemente l'intenzione di togliere un altro di quegli strumenti che viene utilizzato dalla magistratura e viene utilizzato per cercare di evitare certe situazioni di malaffare. Detto questo, il prossimo destinatario di tutto quanto, dichiaratamente secondo me, sono le intercettazioni. Vedremo sulla riforma della giustizia, cosa che già adesso da un punto di vista di legge Bavaio con l'emendamento Costa non si potrà nemmeno parlarne perché il caso Toti, ad esempio, è un caso che non poteva arrivare alla ribalta dei giornali qualora tutto questo, l'emendamento Costa, fosse già stato recepito. Quindi da questo punto di vista, il prossimo destinatario è non far emergere le intercettazioni perché la politica non deve stare in imbarazzo rispetto a quello che fa, soprattutto in un momento dove, lo ripeto, c'è di massimo investimento per il Paese. Premesso che il Movimento 5 Stelle, ricordiamo che è equiparato i reati contro la pubblica amministrazione a quelli di mafia, quindi in qualche modo equiparando anche i sindaci e i mafiosi, ma, diciamo, con le reati, non gli indaci. Adesso c'è una scorrettezza, le sbagliate sulla pubblicazione, non le pubblicazioni. La legge denominata Bavaio, cioè l'emendamento Costa che è stato recepito, approvato dal Governo, sostanzialmente non è che pone il divieto di dare notizia delle indagini, pone il divieto di pubblicare tutte le ordinanze di custodia caudolare per intero, dove all'interno ci sono anche delle intercettazioni che probabilmente creano, realizzano quel sistema di gogna mediatica anche quando una persona è meramente indagata prima di essere condannata. Quindi è anche giusto, corretto, è civile non avere le intercettazioni telefoniche. Adesso ci arriviamo, infatti adesso ci arriviamo perché c'è comunque la questione di Totti, però vorrei in secondo rimanere con lei, Silvestre, rispetto comunque anche a quanto diciamo prima, cioè amministratori che invece si sono trovati molto spesso anche partendo appunto dall'abuso d'ufficio a dover interrompere quella che era insomma la loro carica amministrativa, ad essere travolti sia mediticamente che da un punto di vista giudiziario da una vera e propria tempesta che le ha rovinato da vita. Un caso emblematico è proprio l'amministratore del centro-sinistra che oggetti il sindaco di Lodi che insomma si dice comunque soddisfatto ovviamente dell'approvazione di questo reato. Lui che ha vissuto sulla sua pelle anche la mala giustizia e il malutilizzo di questa fattispecie. Allora le chiedo, anzitutto visto comunque anche quella che è la storia del Movimento 5 Stelle rispetto ad oggetti, se in generale proprio nel caso specifico c'è una riflessione che voi avete fatto una volta che è arrivata la soluzione ad oggetti e non pensate che ci sia forse comunque la necessità anche di tutelare le amministratorie da situazioni di questo tipo che possono rovinare la vita? È la priorità tutelare chi amministra ed è il primo biglietto di visita dello Stato sul territorio. Il punto è questo, bisogna tutelare i sindaci bisogna anche tutelare chi ha la vita rovinata da un abuso d'ufficio. Non esiste solo chi, l'amministratore locale che subisce quello che è un caso di mala giustizia. I casi di mala giustizia, noi non possiamo togliere il reato perché ci sono dei casi che non vanno perché così dovrebbero scomparire i partiti che hanno una mela marcia all'interno dovrebbe scomparire la polizia che se ha qualcuno che non va all'interno non possiamo ragionare così. Ma se si arriva a condanna solo nel 5% dei casi Silvestri forse è il contrario non è qualche mela marcia vuol dire che il 5% di quelle condanne non ci sarà più vuol dire che il 5% di quelle persone che hanno compiuto un abuso d'ufficio che hanno danneggiato le persone non ci saranno più il 5% di casi di abuso d'ufficio vuol dire che il 5% di persone non solo sindaci si sono macchiate o di un favoritismo o di un qualcosa che ha danneggiato la vita di un cittadino quel 5% non verrà più condannato aprono le porte e questo è un problema forse anche il 2% non è un problema di percentuale. Siamo consapevoli e bisogna dire che secondo me molto spesso anche giornalisti su questo insomma devono farsi esami di coscienza perché accade a volte di questione noi abbiamo fatto una riforma la riforma Bonafede da quel momento quando è venuto lo dico a chi è stato a casa perché è utile nel discorso quando è venuto in commissione il garante della privacy e abbiamo chiesto ma quanti casi di violazione della privacy dalla riforma Bonafede sull'intercettazione ci sono stati? Lui sa cosa ci ha risposto? Zero. Il punto è semplicemente che la politica non vuole più l'imbarazzo dell'articolo di giornale perché la riforma Bonafede dice che tutto quello che non serve ai fini dell'indagine deve essere stralciato non pubblicato stralciato Silvestri abbiamo tantissimi casi ad esempio con casi di situazioni di quando? No no anche più recenti le ne posso fare tantissimi pensiamo al caso mi viene in mente uno su tutti il caso Signorelli il portavoce Lollobrigi da intercettazioni di un'inchiesta morto un terzo che non c'entra niente sono venute fuori sui giornali però sono venute fuori cose rilevanti il punto è non all'inchiesta non in sede penale no però da questo punto di vista quelle sono state informazioni come lo è per il caso Todi come lo è per tante altre cose dove c'è un presidente di regione che è arrestato in maniera preventiva ora posto che io gli auguro tutto il bene possibile che esca pulita da questa cosa ma è stato arrestato in maniera preventiva perché telefonicamente diceva perché ci sono le elezioni perché ci sono le elezioni esatto perché ci sono le elezioni lui diceva dobbiamo nelle intercettazioni viene fuori che lui diceva adesso ci sono le elezioni ci servono ci servono devoti perché perché l'elemento delle elezioni fa in modo che in quel momento si consuma l'elemento illegittimo dello scambio dei voti e lui chiedeva da un punto di vista telefonico chiedeva adesso ci sono le elezioni bisogna darsi bisogna darci una mano da questo punto di vista è importante che la politica senta la pressione popolare sia del giornalismo della stampa ma anche del giudizio popolare perché è un elemento con cui qualitativamente la politica migliora le sue prostrazioni e questo è il punto così migliora la politica le sue prostrazioni assolutamente avete su questo giustamente posizioni diverse ma insomma nell'ordinanza di Coutoio c'è scritto che viene arrestato e viene tenuto ingiustamente ai domiciliari perché ci sono le elezioni e beh perché un atto di orologeria è un atto di orologeria è un atto di orologeria quello è il punto ovviamente noi temiamo che vi sia la giustizia orologeria a cui l'hanno proprio scritto ma non è orologeria ma è lui che chiedeva aiuto sotto elezioni e questo è il punto ma un presidente di regione tutti questi mesi ha gli arresti domiciliari senza giudizio ma siamo veramente allora bisogna anche dire che anche un caso unico si sarà accusato con il presidente di regione e gli arresti domiciliari continuano ad esercitare diciamo le sue funzioni senza riflettere su un passo indietro beh gli arresti domiciliari insomma non sono tanti casi di presidente di regione a memoria però le dimissioni creerebbero anche un pericoloso precedente perché se ogni inchiesta deve poi determinare la caduta del governo significa che le magistrate assegniamo un compito relativo alla composizione e alla scomposizione non un'inchiesta finisce con gli arresti domiciliari sotto il rispetto dell'avore della magistratura cioè le indagini non devono comportare automaticamente la caduta di un governo questa è la mia opinione ma anche di tanti esperti perché comunque l'arresto è una misura dedicata alle indagini quindi non è che credo che abbiate avuto modo entrambi di esprimere le vostre opinioni ed è ovvio che insomma chi sta a casa sa a secondo di quella che è la propria idea a chi può fare affidamento però siccome poi parlando di giustizia si dice che prendiamo tutto il tempo però vorrei almeno avere invece con voi la possibilità di un'ultima riflessione su un'altra questione che in questi giorni di estrema attualità e cioè sulla questione dell'autonomia vorrei partire con Silvestre rispetto al referendum perché lei sa che appunto c'è la vostra richiesta con opposizione è partita prima di tutti la regione Campania due quesiti due possibili quesiti uno che prevede l'abolizione totale con il rischio che però non passi perché comunque Calderoli l'è scritto nei capitoli di bilancio e l'altro che prevede diciamo di prenderne solo alcune parti su questo anche alcuni costituzionalisti hanno detto attenzione perché poi l'impressione è che in realtà vi vada bene l'autonomia con delle piccole modifiche insomma ci possono si possono creare dei precedenti non favorevoli da questo punto di vista anche per convincere il vostro elettorato come Movimento 5 Stelle che tipo di quesito volete sostenere e non avete il timore che se non si raggiungesse il quorum perché questo è un referendum di abblocazione poi insomma è qualcosa che elettoralmente paghereste e anche in generale rafforzerebbe il governo io sono fra quelle persone che farebbe una domanda secca senza un secondo quesito che possa in un qualche modo migliorare la situazione andrei secco abolizione totale detto questo io sono convinto convintissimo perché cerco come politico di avere molta presenza sul territorio che tanti elettori della maggioranza andranno a votare per togliere l'autonomia differenziata anche al nord penso anche al nord perché mano a mano si stanno comprendendo anche al nord quelli che sono cioè nessuna regione è più forte se sola un conto è l'autonomia un conto è la solitudine sono cose completamente diverse e quando lo Stato toglie una programmazione nel campo dell'energia di tanti fattori strutturali e lì in un qualche modo sparpagli per le regioni questi sono danni al paese non danni al nord-sud non c'è una contrapposizione al nord-sud io credo sostanzialmente e lo stiamo vedendo perché ci sono presidenti di regione che si sono ribellati nordio stesso ha detto ci sono problemi di applicazione tagliani stesso ha rilasciato un'intervista dove ha detto no però il sud non deve essere danneggiato grazie che il sud è danneggiato e quindi da questo punto di vista io credo che tante persone sia di fratelli d'italia sia di tanti partiti della maggioranza andranno a votare continueranno a votare fratelli d'italia la maggioranza faranno quello che vogliono in generale ma su questo referendum io credo che chi ha a cuore l'unità di questo paese semplicemente andrà a votarlo a prescindere se opposizione o maggioranza quindi credo si potrà raggiungere il quorum a prescindere